Saludatore, grandissima sorpresa direttamente dall'Italia del cioccolato, la fabbrica del cioccolato alla Fiera di Roma. Ecco qui, volevamo fare un saluto insieme a Giali Baldi. Ciao a tutti italiani. Ecco qui, lui è Alessandro Solombrino, attore, vi saluta, lo trovate anche lui qui tra gli altri animatori. Animatori, per invitare al cinema delle province, tutti gli amici e salutatori, per vedere questo film che è eletto, con una denuncia sociale che parla degli esotati, quindi è una cosa molto importante. Andate al cinema delle province, a Roma, fino a domenica, per la domenica prossima, altri oggi e domani, per andare a vedere. Andate a vedere. Sì, sì, sì. Allora, io ti ringrazio, perciò andate a vederlo e ricordiamo allora il tuo canale sul film, che qual è? Ecco, noi qui vediamo tutti i tuoi prossimi progetti, ti ringrazio io a te. Allora facciamo un saluto a tutti gli amici della Sardegna, ecco qui vediamo un uraga e poi facciamo un saluto direttamente da tutta l'Italia del cioccolato. Ciao, noi ci giriamo perché qui l'Italia è tanta, per finire dal Colosseo. Ciao!